Trascorsa la lunga pausa estiva, per Paolo Andreucci si avvicina il ritorno a bordo della scoda Fabia Rally 2 del team H Sport gommata MRF. Da giovedì a sabato, il campione Garfagnino sarà protagonista in Sardegna del quarto appuntamento del campionato italiano Rally Terra, il Rally dei Nuraghi e del Vermentino. Affiancato da Rudy Briani, il portacolori della scuderia M33 Skagate, proverà a centrare il quarto successo stagionale dopo aver vinto in precedenza nell'ordine Rally della Val d'Orcia, Rally Adriatico e San Marino Rally. Tanta voglia di tornare in gara per il pluricampione Garfagnino che arriva in Sardegna a punteggio pieno, anche se è consapevole che il campionato è ancora aperto e non permetterà alcuna distrazione né tanto meno di lasciare dei punti per strada. Evidente che i pneumatici MRF abbiano raggiunto un elevato livello di prestazioni, non a caso Efren Di Arena e Sara Fernandez hanno conquistato il primo titolo europeo. Notevole successo ed un grande orgoglio anche per Paolo che li sta sviluppando e che pure durante la lunga pausa estiva non è rimasta a guardare, effettuando test su asfalto, tanto che il livello competitivo è in continua crescita. Sono due le frazioni previste per il Rally dei Nuraghi e del Vermentino. Intanto giovedì gli equipaggi saranno impegnati nel percorso di gara, poi venerdì mattina invece la gara entrerà nel vivo con lo shakedown al mattino e nel pomeriggio due passaggi in fila sulla Osciri da 7,47 km, anticipando un sabato seguente, incentrato sull'Alà dei Sardi di oltre 14 km e sulla Monte Lerno, pure sulla stessa distanza, entrambe da affrontare per due tornate in sequenza. Paolo Andreucci da numero uno, ma gli avversari non mancheranno e la corsa sarda si profila davvero entusiasmante.